Salve a tutti ragazzi, siamo i TheDotorsCanA e sì, siamo sulla Playstation 3, almeno Biggie sulla Playstation 3, perché io continuare a essere su Xbox? Abbiamo deciso di fare un Waltrault di Uncharted 3, in live, in live ovviamente, quindi vabbè, vi lasciamo questo filmato che è molto bello Un ciclo, cubano Coloro che sognano di giorno, sono uomini pericolosi, perché possono vivere i loro sogni a occhi aperti, e realizzarli, io sono uno di questi E da qua la trama si fa sempre più affascinante Ok, vi avviciniamo subito che non ci sorprenderemo più di tanto per questi primi tre capitoli, perché li abbiamo già visti da Ario o D.B. Sì, ma... Sì, conteranno lo stesso un po' di adrenalina Ok, ok, basta fare i beatbox Almeno Biggie li ha già visti, perché io li devo ancora vedere, quindi sono curioso Seguirò la storia insieme a voi Intanto vediamo la vodka Non manca mai Sembra il papà di un nostro amico È vero Nostro prof di musica Con il cappellino E fuori, cazzi mi sembrava qualcosa di osceno ma vabbè lasciamo andare chiedo scusa non sei mai troppo prudente e tu che cazzo sei e tu che cazzo sei no pesce d'aprire trovis questa valigetta contiene un pancake la faccia è un cake cazzo buono questo pancake insomma devo controllare se è un pignolo però dai si si e io sono jack norris si tre anni e ho fatto rapine no non c'è dopo crisi male o meno stupendo questo live finti come le dette della canalis io ti amo sto vedendo una cosa molto the doctor scan diciamo molto rivisitato tanto big sta pulendo la play 3 perché è troppo bello un po' un fanatico mi fa impressione quello là no bella vai drake spaccaglielo in testa io ti compro il drake anche io ah ecco questo qua drake se spari di biu va vai vai adesso si si inizia a malmenare la zinca mamma mia che pulito oh oh mi piace mi piace sto gioco mi inizia a prendere anche a me da questo punto di vista vai vai drake premio premio x ecco vai drake sono il bulletto sono il bulletto drake sono il bulletto drake dammi i soldi della merenda mamma mia dammi i soldi della merenda boom 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 che male ah non è tu se la cavo eh direi what guarda che mosse che tecnica viene sta roba qua tanto quello là sta sta osservando il pavimento le travi sono molto ben fatte ma ecco dove devo andare rispetto mamma chi è sto qua ehi oddio chi è che mi ha fatto il solletico ah questo dai pone male ok dopo aver avuto una mascella nuova drake è ritornato ok fa male ecco adesso ce l'hai nel culo altro uno un altro round uh adesso fa male boom ecco 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 sta colpendo i punti del chakra se non lo vedete in modo da immobilizzare i nemici col ninja sto o molto più semplicemente sta facendo a cazzotti vai 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 tagliere 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 mamma mia che forza della natura sto wow mamma è una belva ma adesso arriva check notice della porta qualcuno mi ha chiamato ti nomina in arresto boom boom nel nome della legge che cazzotti che tira no c1 ecco ok 0 ah no 1 si dopo lo ripari tu però eh cioè danno oh oh che gancio che gli ha tirato oh fa male anche questo fa male è un figo ok ciao ciao nato ciao ciao drake ok e così è finito certe tre ecco allora io scapperei dal cesso e dopo tirerei l'acqua arca adesso gli compie il ninja sto che quello dovevi fare pieno con gli steroidi mamma mia che male occhi alle combo big che se non le premi in tempo ce l'abbiamo su per il culo eh immagino x brava no cioè triangolo boom boom oh cazzo ah fa male di nuovo eh fa il bullo adesso oh oh ok ok ha vinto tutto bene alla dentro l'hai già trovata ah intanto vediamo le scritte dei rider sui bagni che figa adesso sta magicamente bene usciamo da dietro ok prima era zuppicante come un gattino randaggio adesso mamma mia mamma mia gioca abbastanza violetto c'è quello che ho capito non credevo così tanto io te aspetta prendi l'ordinazione almeno no oh cazzo ops 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 il primo capitolo quanto dura che non lo so sto guardando sto osservando la trama per ora sta durando nove minuti ok va bene non importa lo caricheremo quindici ci dai finchè non finisce il primo capitolo ecco quindi faremo capitolo per capitolo capitolo per capitolo resta giù che macchinozza quello di prima talbot che bastardo catherine marlowe la figa a 50 anni 40 milf 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 e la merda davvero poco dignitoso per un uomo della tua età beh è una bella signora e dagli una bottarella dai non ha portato l'ombrello per niente che ombrello wow altro che la borsa di mary poppins questo è l'ombrello di mary poppins tanto sta facendo la barba infatti si può vedere come si è rasato l'elastico ok è finito un certo e tre ma no 13 aspetta ma come è morto no non può essere morto se no sarebbe subito finito ok c'era un walkthrough moolto corto abbastanza no no non è finito per cosa non durava cinquanta no cinquanta ore no venti ore oh ok è durato quindici minuti aspetta qua c'è qua c'è qualcosa ok ciao questa è la fine della prima parte spero vi sia piaciuta e continuate a seguirci con i live al secondo capitolo